salve ragazzi ecco qua un altro metodo di guadagno alternativo praticamente voi avete il canale youtube o comunque avete una pagina facebook e come potete vedere io qua l'ho lasciato in stallo cioè non guardavo più il sito da un paio di mesi e adesso c'ho due dollari qua quindi cosa vuol dire questo adsterra si chiama che sarebbe l'alternativa a google adsense dove praticamente entrate su adsterra for publishers cioè cosa vuol dire che dovete fare voi i link per il vostro sito quindi qua dovete mettere website io ho messo il mio blog e youtube potete mettere youtube.it perché youtube.it vi permette di generare dei codici che sono riconosciuti a youtube e quindi non ci sono problemi per youtube e poi andate su direct links e create da qua qua c'è crea create direct links praticamente vi permette questo qui di avere anzi lo creiamo adesso create link quindi dovete mettere non adult quindi qua dovete segnare quello che non volete che le pubblicità che non volete vedere quindi eroti che non è sconsigliato comunque quindi vedete queste qui le lasciamo tutte quante poi andiamo ad quindi qua è stata presa la cosa la richiesta adesso pelle quindi dovete aspettare qualche ora quando qua diventa attivo voi dopo potete copiare il link ok e andate adesso su un vostro video e lo copiate qua qua io l'ho collegato ovviamente al servizio anche che sarebbe un link shortener bit.ly che apro in un'altra finestra bit.ly clicchiamo quindi mettete il link che vi serve da dal sito qui su bit.ly poi copiate praticamente il link che vi genera il sito bit.ly e lo copiate su uno dei vostri video questo permette se avete un video che magari qualcuno clicca perché comunque non sono pubblicità brutte c'è il sito comunque di amazon quando cliccate qua vi apre amazon a volte vi apre le che adesso yahoo news insomma tanti siti tranquilli non è pubblicità troppo spammante è una pubblicità tranquilla un'alternativa a google adsense che vi permette col tempo di avere un altro guadagno quindi ci sono tanti metodi per iniziare a guadagnare quindi se avete dei video molto virali questo è un altro un'altra dritta che vi do cioè di mettere i link direttamente ma questi li potete mettere anche sul blog sulla pagina facebook insomma potete spammarli un po' dappertutto questo vi permette di avere un altro guadagno quindi ci vediamo al prossimo video ciao